Allora, mio fratello è a questo matrimonio. Cinco. Ora però ho bisogno di dirvi una cosa a tutti. Amici del grande baseball, ecco che torna in campo Ivano. L'abbiamo deciso da poco. Ci sentiamo troppo. Quindi devo fare da badante a papà solo perché sono brava, giusto? O perché fai... Perché devi dominare questa giornata? Oh! 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 Grazie per la visione!